Gamma, zuccherificio, formazione professionale, un centinaio in tutto i lavoratori che hanno circondato la sede della giunta regionale guardati a vista da un plotone di poliziotti in tenuta antisommossa, una manifestazione di protesta organizzata da Cigelle, Cisle e Will per sollecitare risposte immediate al governatore Paolo Frattura sul fronte rovente della crisi che ha già sfiancato e ridotto alla fame migliaia di lavoratori, tra i manifestanti sentimenti di disperazione e rabbia ma anche tanta delusione per le promesse non mantenute dal governo regionale in particolare i dipendenti dello zuccherificio hanno denunciato strane manovre della politica contro l'imprenditore Diego Volpe Pasini che ha riavviato lo stabilimento e hanno espresso preoccupazione per la quinta asta pubblica le prime quattro sono andate deserte per la vendita dello stabilimento che si terrà il primo aprile in vista di tale circostanza diverse aziende hanno visitato lo zuccherificio ma una sola che peraltro è specializzata nella produzione di energie alternative è stata accompagnata dall'assessore Vittorino Facciolla, dal nuovo amministratore Enrico Cianciosi e dal consulente economico di Frattura Paolo Veri abbiamo appreso dai giornali che ha accompagnato un'azienda che sembra che non fa zucchero si parla di bioplastiche o altro e noi siamo preoccupati perché fino adesso pensavamo che l'indirizzo era fare zucchero però da quello che abbiamo visto ci stiamo preoccupando certamente noi non è che possiamo bloccare la manifestazione di interesse di un imprenditore in una procedura concorsuale, questo non lo possiamo fare però è chiaro che la giunta deve sapere che se c'è qualcuno che vuole comprare l'azienda per fare altro cose strane o immundizia o quant'altro la risposta del territorio sarà forte mentre abbiamo letto del giornale che è arrivata questa nuova Monter che è stata anche accompagnata dalla regione all'interno dell'azienda Pasini non è stato assolutamente accompagnato accompagnato non all'interno dell'azienda ma accompagnato nei suoi progetti, nei suoi piatti si sono sempre sottratti ad ogni nostra richiesta di incontro noi vorremmo capire chi è, che piano industriale ha per noi e che futuro ci riserva questo è quanto, su Pasini avevamo puntato, capivamo qual era il suo piano industriale nelle poche righe che abbiamo letto, sapevamo che voleva fare questa campagna dopodiché comprava e si capiva quello che si andava a fare per il futuro ancora più disperata la situazione della gamma ma quale novità? qui sono solo chiacchiere e promesse, sono due anni che ci fanno solo promesse di tavoli che ne abbiamo fatto una trentina, ad oggi non c'è niente l'unico dato certo è che ci sono 247 lavoratori in cassa integrazione a prescindere che noi vogliamo il lavoro, l'abbiamo sempre detto al Presidente noi vogliamo lavorare, ci devono ridare quello che ci hanno tolto, la dignità e non solo i 247, poi ci mettiamo gli avventisi che sono senza sostegno a redditi che sono all'incirca un 400, più allevatori e trasportatori quindi ad oggi non c'è una soluzione ad una vertenza peraltro nei prossimi giorni il giudice si pronuncerà sul concordato preventivo predisposto dalla gamma ma secondo indiscrezioni trapelate il Tribunale potrebbe dichiarare il fallimento dell'azienda vicola boianese